Mi è servito per riorganizzare completamente l'ufficio. È stato un investimento estremamente positivo in termini di organizzazione. È quel classico prodotto che non c'era e che fortunatamente qualcuno ha pensato bene di programmare, di inventare, di mettere sul mercato. Utilizziamo Tuepi da circa un anno ed è stato per noi veramente un cambiamento fondamentale. Quindi devo ringraziare davvero l'azienda Tuepi perché ha ottimizzato tutto quello che sono appunto i processi all'interno della nostra azienda e ringraziamo Tuepi per l'aiuto che ci ha dato in questa fase di start-up. Tutte le demo, qualsiasi software sembra bellissimo, ma in realtà dopo già la prima ora ho capito che il 90% delle funzioni di Tuepi erano facilmente comprensibili. Posso assicurare che già dopo una settimana utilizziamo il 95% delle funzionalità. Io lo uso da ormai diversi anni e ne sono veramente entusiasta, è un programma geniale.